Stava realizzando un complesso immobiliare nel cuore di Napoli, la società intestata a un prestanome, ma riconducibile a due persone, ritenuta espressione imprenditoriale, del clan Polverino Nuvoletta, sequestrata oggi dai carabinieri del nucleo investigativo e dalla DDA nella zona di Montesanto. In assenza di autorizzazione sismica e indiformità al progetto presentato, nel cantiere a cui sono stati apposti i sigilli erano in corso i lavori per la costruzione di 12 mini appartamenti su due livelli per un'estensione complessiva di circa 800 metri quadrati, un progetto da circa 3 milioni di euro. L'impresa, emerso dalle indagini, tra il 2018 e il 2019 aveva avuto commesse per circa 400 mila euro nella stessa zona. Oltre alla società è stato sequestrato anche tutto il suo assetto patrimoniale, del valore di circa 100 mila euro. A Marano, in provincia di Napoli, in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP di Napoli su richiesta della procura antimafia, i carabinieri del comando provinciale hanno arrestato le tre persone coinvolte. Per due è stato disposto il carcere e per uno i domiciliari. Sono accusati di trasferimento fraudolento di beni aggravato dal metodo mafioso.